Erano stati abbandonati e dentro uno scatolone sotto il sole i cuccioli trovati morti in avanzato stato di decomposizione dei volontari che poi insieme agli animalisti hanno messo una taglia di 1000 euro per avere informazioni accurate, precise, attendibili che possano fare risalire i responsabili del fatto. L'abbandono di animali e nello specifico di cani è reato previsto dal codice penale e punito dalla legge e se da un lato le associazioni lamentano una poco adeguata soluzione al problema e chiedono da anni alle amministrazioni comunali e alla polizia municipale di pianificare controlli stringenti e maggiori misure di contrasto per la prevenzione degli abbandoni e per l'illusione dell'obbligo della microcippatura dei cani, dall'altro proprio nei giorni scorsi in municipio si è tenuta una riunione tecnica tra il sindaco Gambino, l'assessore Andaloro, il dirigente Tomasella, i responsabili dell'ufficio Randagismo, il comandante della polizia municipale Peruga, i responsabili del servizio veterinario ASP e i volontari animalisti accreditati e le associazioni locali per fare il punto sulla situazione e trovare soluzioni. Tra le azioni che saranno attuate ci sarà l'avvio di controlli a tappeto in città con squadre miste formate da agenti della municipale e volontari esperti per la vigilanza sul rispetto delle norme di polizia zoofila e antirandagismo.